NEMICO A TERRA Nessun effetto Nessun effetto, confermare UAV in allontanamento Un ruine in meno Preso UAV pronto Autorizzo l'uso di un UAV Battery è capo Preso Colpo fulminante in attesa di coordinate Rifle, rifle, rifle Facciamo casino Whisky, tango, foxtrot Un ruine in meno Un ruine in meno Beccato in pieno Per voi è finita Ecco fatto Ghetto Seraf eliminata. Sistemato. HC-XD in uso. Sistiamo vincendo. Centro confermato. Uccisione confermata. Gangster uccisa. Sistema. Sistema. Liscio come l'olio. Eccellente. I 54 non si piegheranno mai. Vi siete addestrati almeno un po'? Sistema. Oh stazione persa. Approvvigionamento in arrivo. Fire break a terra. Salon alleato nell'area operativa. HC-XD alleato in arrivo. Impulso visivo carico. Profit eliminato. Postazione localizzata. I nemici hanno la posizione. La postazione è nostra. Postazione contesa. Postazione contesa. I nemici hanno la posizione. Postazione contesa. Osservatore uccide. Postazione persa. UAB in arrivo. HC-XD alleato in campo. Postazione localizzata. NEMICO ELIMINATO. I nemici hanno la postazione. Postazione conquistata. NEMICO ELIMINATO. Postazione contesa. NEMICO ELIMINATO. Postazione persa. A gente che interiore. Sono in vantaggio Black Ops. Fate qualcosa. Cosa? Dänister massacrato. Postazione localizzata. I dänister hanno la postazione. Postazione conquistata. Seraph a terra. Centro confermato. Bastoglia nemica! Gangster a terra. Arriva un approvvigionamento alleato. UAV in arrivo. Postazione contesta. Postazione conquistata. Postazione localizzata. La terra è raffinata. I nemici hanno la postazione. Obiettivo fallito. È finita. Ci hanno fatti neri. Tornate ad addestrarvi. Tornate ad essere a protcribe. Tornate ad arrivare. Grazie a tutti.